Se tanto e bene vuoi mangiare, alla Barchessa devi andare! Eh sì! All'Osteria Pizzeria alla Barchessa potrai gustare i magnifici minuti con specialità di carni alla griglia, la cucina casalinga, il ristorante e la pizzeria racchiusi in una calda e piacevole atmosfera. Luogo ideale per feste, ricevimenti e cene aziendali a Due Carrare in provincia di Padova. Osteria Pizzeria alla Barchessa in via Campolongo 105 con ampio parcheggio. Aperta anche a Natale e a Capodanno prenotando allo 049 91 25 901. Da martedì alla domenica vi aspettiamo a pranzo e a cena. Aperta anche a Natale! Buonasera, buonasera amici telespettatori di Caffè TV 24. Eccoci qui nuovamente, un'altra puntata di Stami Bene, percorsi di salute e benessere in onda in rigorosa diretta con voi ogni mercoledì sera. Questa sera parleremo di un argomento molto importante, la chirurgia dell'obesità. Abbiamo un'eccellenza qui ospite da noi questa sera, è il professor Franco Fravretti che è venuto a trovarci. Buonasera professore, è primario di chirurgia specializzato proprio in chirurgia dell'obesità. Buonasera, benvenuto con noi, mi fa molto piacere di averla da noi questa sera. E poi pensate abbiamo una nostra telespettatrice perché veramente vuole che ci prendiamo carico di lei per un percorso di dimagrimento. Quindi questa sera porrà delle domande al nostro chirurgo di fama internazionale perché è il numero uno, lui non vuole che si dica ma io lo dico veramente perché è veramente bravo. Pensate che è stato il primo in Italia, 30 anni fa, a Padova per la prima volta ha sviluppato proprio questa chirurgia dell'obesità. Una novità, è stato pioniere e è conosciuto in tutto il mondo. Veramente, Franco Fravretti, eccellenza italiana, lo voglio dire questa sera. Grazie, troppo buono. No, perché le nostre eccellenze le dobbiamo citare quando ci sono e ci riconoscono in tutto il mondo. A me fa solamente anche piacere. Allora, professore, io saluto intanto tutti i nostri telespettatori che da Veneto, ma anche dal Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna, dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Trentino, Marche, Lazio, Campania e Piemonte ci seguono. Vi ricordo che ci potete contattare al 342-533-9744 tramite sms o whatsapp oppure intervenire in diretta per parlare con il nostro professore allo 049-7800-204 oppure scrivere a stammibene-cafetv24.it. Ricordo anche, questa sera, visto l'argomento che tratteremo, tutte le informazioni che daremo poi, se sarete interessate ad approfondire la cosa, ci potrete contattare, quindi vi daremo delle nozioni per contattare il Centro per la Terapia Medica e Chirurgia dell'Obesità. Allora, partiamo subito con Marika, volevi porre delle domande, sei venuta qui, ti abbiamo dato spazio, partiamo allora un po' con la tua storia. Tu hai qualche chiletto in più, come tantissime persone, perché guarda ci sono al mondo un miliardo di obesi, quindi insomma siamo tanti che abbiamo qualche chiletto in più. E hai provato a dimagrire, hai avuto un effetto yo-yo, sei dimagrita, però poi hai anche riacquistato questo peso. E adesso vuoi seguire un po' un percorso, non sai quale percorso scegliere. Vai pure con la domanda. Niente, io volevo chiedere al dottore, insomma, se questa operazione è dolorosa. Allora, Marika, tanto per cominciare diciamo che la chirurgia dell'obesità è indicata per delle persone che abbiano da 30 kg, 35 kg in più rispetto al peso ideale. C'è una formula particolare che si riferisce all'indice di massa corporea, ma è troppo complessa. Praticamente diciamo che è indicato un trattamento chirurgico per persone che abbiano da 30-35 kg in più rispetto al peso ideale. Quindi probabilmente Marika, lei se lo desidera, potrebbe essere una potenziale candidata a questo tipo di chirurgia. Parlando della chirurgia dell'obesità sarebbe lunghissimo. Lei mi ha chiesto se l'intervento è doloroso. Allora, gli interventi ormai si fanno, nella stragrande maggioranza dei casi, per via mini-invasiva laparoscopica. Di conseguenza questa tecnologia permette di un decorso post-operatorio molto più benigno, con meno problematiche per quanto riguarda il dolore e la ripresa funzionale praticamente immediata per quanto riguarda l'attività lavorativa o gli impegni familiari. Quindi direi che la laparoscopia ha fatto sì che il dolore è stato minimizzato. Ecco, lei va subito a chiedere del dolore. Ma prima di cominciare questi interventi, che cosa succede? Il pre, il prima, dottore, dove si va ad intervenire? Intanto quando si presenta da lei un paziente, che cosa succede? Come vi adoperate al vostro centro? Diciamo che l'approccio presso il nostro centro è un approccio multidisciplinare. Il paziente viene visto dal dietologo, dall'internista, dallo psicologo, dal chirurgo e in questa maniera con il paziente si fa un bilancio della sua situazione, gli si rilascia una relazione medica alla fine dove è indicato il percorso chirurgico o meno che il paziente dovrebbe seguire. Chiaramente non è solo un centro per la chirurgia, ma anche per la terapia dietetica oppure per altri tipi di trattamenti tipo il palloncino intragastrico o così. Quindi il paziente viene visto da questo gruppo multidisciplinare e se ha le caratteristiche per essere operato, gli vengono indicati una serie di esami che devono essere eseguiti per vedere che non ci siano delle patologie non conosciute, dopodiché si programma l'intervento chirurgico. Quindi direi che il percorso è abbastanza ormai codificato dopo tanti anni, c'è l'indicazione, gli esami necessari e indispensabili per fare l'intervento, dopodiché programmazione dello stesso, ma soprattutto condivisione con il paziente in modo da personalizzare l'intervento chirurgico, perché ci sono tante chirurgie disponibili. Non è detto che tutte vadano bene, quindi bisogna vedere quella che è più indicata per il singolo paziente. Le chirurgie disponibili, dottore, perché io mi sono studiata l'argomento. Ho gli interventi restrittivi, gli interventi misti e gli interventi malassorbitivi. Vogliamo parlarne bene questa sera così gli amici a casa capiscono bene di cosa vanno incontro, cosa succede, quindi poi abbiamo anche delle immagini a supporto, perché è un argomento molto interessante. Abbiamo un'ora per approfondirlo con uno dei massimi esperti. A lei, professore. Allora, effettivamente dopo 50 anni di chirurgia dell'obesità, abbiamo a disposizione un gruppo di interventi chirurgici ben codificato, di cui si sa bene i risultati e le possibili problematiche relative a questi interventi. Questi si dividono in restrittivi, malassorbitivi o interventi misti. Per fare le cose, per semplificare al massimo, direi questo, che gli interventi restrittivi sono quelli che espongono il paziente al minor rischio in termini sia di mortalità sia di complicanze relative all'intervento chirurgico, perché questo è sempre un intervento chirurgico. Gli interventi invece di tipo malassorbitivo o addirittura misti, ma che comprendano una resezione dell'intestino, dello stomaco, con delle cuciture, anastomosi e così, questi, proprio per definizione, hanno delle complicanze potenzialmente maggiori. E da allora quello che abbiamo fatto nel nostro centro, dove noi facciamo tutti questi tipi di interventi, è praticamente sviluppare un approccio sequenziale al paziente, offrendo al paziente prima di tutto un intervento che sia il meno rischioso per il paziente stesso e che sia nello stesso tempo gravato, che possa offrire una percentuale di successo interessante. Ed è per questo che di primo acchito ai nostri pazienti consigliamo, a meno che non ci siano delle controindicazioni particolari, consigliamo l'intervento di tipo restrittivo, tipo il bendaggio gastrico, fatto per via la paroscopica. Mentre gli interventi di altro tipo, sempre ripeto, a meno che non ci siano delle precise indicazioni, vengono fatti come sin seconda battuta. Per quei casi in cui il paziente sia stato insoddisfatto di un intervento restrittivo e a questo punto è giustificato esporlo ad un maggior rischio che è quello insito nell'intervento malassorbitivo o misto. Volevi intervenire? Vai. Scusa, Marito. Le persone diabetiche possono fare questo tipo di intervento? Assolutamente, questa è un'ottima precisazione perché il diabete è tranquillamente affrontabile, ma non solo possono questi pazienti affrontare gli interventi chirurgici che ho detto pur avendo il diabete, però questi interventi curano il diabete perché lo si sa già che ad esempio gli interventi tipo i bypass curano il diabete di tipo 2, quello dell'adulto per intendersi, nel 95% dei casi, quindi che è una cosa incredibile, se lo tengono sotto controllo nella stragrande maggioranza dei pazienti. Mentre ad esempio gli interventi restrittivi tipo il vendaggio è nel 50% dei pazienti diabetici in cui si ottiene un risultato importante, mentre il 25% migliorano e il 25% hanno un risultato nullo. Mentre gli interventi di tipo malassorbitivo o misto, in questi casi la percentuale di cura tra virgolette del diabete raggiunge anche il 95%. Quindi è una cosa molto importante perché sta rivoluzionando completamente adesso l'approccio, se adesso si sta parlando di terapia chirurgica del diabete, però non voglio entrare in questo argomento perché è un argomento molto dibattuto e così, però i risultati positivi che abbiamo avuto in tutti questi anni nel trattamento di pazienti sovrappeso e diabetici nello stesso tempo sono lì a dimostrare che il diabete viene controllato. Trent'anni fa sarebbe stato impensabile pensare che il diabete si poteva trattare così, dottore? Nessuno lo pensava, nessuno lo pensava e questi risultati li abbiamo avuti sotto gli occhi per tanti anni. Finalmente abbiamo capito che effettivamente questa chirurgia ha come beneficio, oltre che il controllo del peso, anche il controllo del diabete. Ecco, poi dottore, volevo chiedere un po' anche da parte dei nostri telespettatori che già erano su Facebook presenti ieri quando ha avuto la conferma che lei sarebbe venuto qui. Poi la vita dopo questi interventi procede regolarmente, possono anche, tra virgolette, assumere i loro farmaci. Cioè cosa succede il dopo, ecco? Come si deve comportare il paziente? Vi ricordo tra l'altro che potete interagire con il nostro professore attraverso lo 049-7800-204, sms 342-533-9744. Siamo in rigorosa diretta, Caffè TV 24. Stiamo parlando di chirurgia dell'obesità con uno dei massimi esperti, quindi questa sera mi raccomando per coloro che hanno qualche chiletto in più, se hanno qualche titubanza, abbiamo a disposizione un'ora di tempo per parlare con il nostro professore. Prego, professore. Allora, la domanda era quella, com'è il posto operatorio di questi pazienti? Certo, certo. Allora, c'è poco da dire. Indipendentemente dalla tipologia dell'intervento chirurgico, bisogna che il paziente accetti di cambiare e modificare le sue abitudini di vita, sia di vita che alimentari. Senza questo passo non si riesce ad ottenere i risultati desiderati dal paziente. Ossia, diciamo, la compartecipazione da parte del paziente deve essere totale. Io dico sempre che il successo dipende del 50% dal chirurgo e dal 100% e il 50% da come il paziente risponde a questo intervento. Nella maggior parte dei casi i pazienti continuano con la loro vita normale, lavorativa e familiare, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di tipo restrittivo. Di fatto, loro introdurranno meno calorie di quello che hanno bisogno, per cui in questa maniera si determina il calo ponderale. Questo è il meccanismo base che è comune a tutti gli interventi chirurgici. Però direi che possono continuare a prendere le loro medicine e chiaramente devono modificare le loro abitudini dietetiche e comportamentali, nel senso di cercare di fare una vita più attiva, anche dal punto di vista della mobilità, muoversi, ginnastica, attività sportiva e così via. Quindi aumentare il dispendio energetico. Ecco, poi dottore, quelle donne invece che sono alla ricerca di una maternità e che hanno qualche chilo in più, però fanno un pensierino su questa tecnica chirurgica, lì cosa bisogna dire? Anche questa è una puntualizzazione molto importante, dottore Serizzi, perché praticamente quello che si verifica è un paziente sovrappeso, diciamo che è un candidato alla terapia chirurgica, che ha almeno 30 kg in più di peso. Allora, questi pazienti generalmente, per quanto riguarda un'eventuale gravidanza, generalmente hanno problemi di fertilità, perché a livello di ciclo mestruale ci sono delle irregolarità e così via, quindi diciamo che c'è una diminuzione della fertilità. E nello stesso tempo, se restano, se si verifica una gravidanza, sono esposti a maggior rischio per quanto riguarda gestosi gravidi, che ha complicanze sia per la mamma, sia per il bambino. Allora, la chirurgia dell'obesità, e questo è stato dimostrato da tutti i nostri studi, c'è una letteratura scientifica in proposito enorme, che il paziente che viene sottoposto a chirurgia dell'obesità e cala di peso, aumenta la propria fertilità, e nello stesso tempo, se dovesse rimanere incinto, praticamente diminuisce il rischio a cui potrebbe essere esposto se non fosse stato, se avesse avuto lo stesso peso iniziale. Quindi il calo del peso fa sì che si riduce l'esposizione al rischio per quanto riguarda gestosi e complicanze relative. Benissimo, professore. Allora, qui abbiamo anche uno stomaco, abbiamo anche dei filmati che vorrei far vedere al nostro pubblico. Da dove vogliamo iniziare, dottore? Cominciamo dallo stomaco? Forse dallo stomaco è la cosa più semplice. Noi pensiamo che a casa serva un po' di chiarezza, perché a volte quello che può essere letto su un libro è bene vederlo, invece è spiegato da chi ci lavora, da chi è lo specialista e ce lo può spiegare bene. Bada, professore. Allora, praticamente nell'immagine viene illustrato uno stomaco con un bendaggio gastrico regolabile. e direi che questo è l'intervento meno invasivo e meno rischioso che abbiamo a disposizione al momento attuale. Quindi, ed è questa anche la causa del suo successo. Un intervento che nello stesso tempo è totalmente reversibile. Quindi fa sì che nel caso il paziente lo decidesse, può essere rimosso il bendaggio e ritorniamo esattamente nella situazione iniziale. Come vedete, attorno alla parte più alta dello stomaco viene messo questo bendaggio che è collegato con un serbatoio che vedete in basso. Questo serbatoio è messo nel sottocuto e quindi è tutto coperto, non c'è nulla fuori dalla pelle. Il paziente non lo sente neanche questo serbatoio. Pungendo il serbatoio, da parte del medico chiaramente, viene inettata della soluzione fisiologica che riempie il bendaggio. In questa maniera fa sì che la camera gonfiabile del bendaggio riduca il diametro del passaggio del cibo attorno alla parte più alta dello stomaco. In sintesi, lo stomaco alla fin fine è trasformato in una clessidra con la parte più alta molto piccola. Il cibo scende, ristagna nella parte alta, dà la sensazione di sazietà e il paziente per questo mangia meno. Quindi è un inganno che viene dato a livello cerebrale perché dà una sensazione di sazietà precoce per cui l'apporto calorico è diminuito. Questo è il meccanismo di funzionamento del bendaggio. Professore, alcuni dicono che il bendaggio si sente più stretto al mattino. È vera questa cosa? Direi che sì, molti riferiscono a questo che al mattino hanno magari dei problemi a riprendere l'alimentazione ma che dopo il primo sorso d'acqua o il primo boccone tutto ritorna come prima. Direi che il paziente non se ne rende neanche conto di avere il bendaggio e lo percepisce solo quando mangia perché sente la restrizione o sente la sensazione di sazietà precoce per cui questo è il motivo. Però direi che il paziente non deve vomitare, deve stare bene, ossia deve fare la sua vita normale. Se vomita vuol dire che c'è qualcosa che non va o a livello del bendaggio o nel modo di alimentarsi da parte del paziente. Perché poi ci deve essere anche una certa logica in quello che si mangia perché se mi abbuffo come prima la cosa non va bene. Cioè bisogna anche saper mangiare perché se mangio un piatto di pasta aggiungo le patate, aggiungo il dolce, non va bene. Non è possibile. Ho fatto una schifezza. Non è possibile proprio. Non ci sta tutta questa cosa. Per cui vengono date al paziente a seconda del periodo post-operatorio dei suggerimenti dietetici in modo tale che sappia come regolarsi. Non è che si fa il bendaggio e poi il paziente viene abbandonato a se stesso. Vengono date delle indicazioni dietetiche nell'immediato post-operatorio dove si deve privilegiare una dieta liquida e semi-liquida e poi nell'immediato, diciamo dopo il primo mese dove si ritorna a una dieta solida normale ma si mangia meno rispetto a prima. Ecco, questa è la chiave ossia avere un introito calorico di cibo minore di prima in modo tale da poter perdere dei chili. Sentiamo un po' la tua dieta. Come va? Innanzitutto il tuo fidanzato ti porta a casa la cioccolata, la tutta sciroppata perché anche qui, professore, la famiglia ha un gioco rilevante. Cioè, se mi porti a casa tutta sta bontà e io ho fatto un bendaggio, eccetera, non va bene perché anche la famiglia deve collaborare. Giusto, dottore? Assolutamente. Direi che è importantissimo che la famiglia partecipi a questa decisione chirurgica che viene presa da parte del paziente perché altrimenti il paziente si trova in conflitto magari con membri importanti della propria famiglia che per essere il marito, la moglie, la mamma o il papà o i fratelli e fa sì che i risultati per ottenere i risultati desiderati sia ancora più difficile. Quindi è molto importante che la famiglia accetti e aiuti il paziente in questo suo percorso e che non gli metta ulteriori difficoltà. Questo è molto importante non solo per il bendaggio ma per qualsiasi tipo di intervento. Il paziente deve essere sentirsi appoggiato dall'ambiente familiare in modo tale da sapere che ha fatto la scelta giusta che non gli viene contestata ogni giorno da qualcuno della famiglia. Perfetto. Sediamo un po' il tuo diario alimentare. Allora, la mattina vediamo se ci troviamo già qualche errore. Di errore ce ne saranno molti perché purtroppo mi capita magari spesso di mangiare un paio di biscotti magari 4-5 biscotti poi se ho della Nutella con le fette biscottate mangiare altre 4-5 fette biscottate con la Nutella. E a pranzo? A pranzo un piatto di pasta e poi anche del pane capita anche del pane magari un panino col prosciutto. E la sera si mangia tanto o poco? La sera abbastanza anche la sera. Che è una cosa controindicata vero professore mangiare tanto di sera? Dobbiamo sempre ridurre verso la sera la quantità, vero? Il problema è che purtroppo bisogna cominciare a cambiare le abitudini alimentari che è la chiave fondamentale e il bendaggio aiuta moltissimo a cambiare le abitudini alimentari essendo il paziente precocemente sazio. Alla fine è importante la quantità di calorie che vengono ingerite. Questo è certo. certo che con il bendaggio non si può ingerire questo tipo di questo aumento di questa quantità di calorie quindi c'è sicuramente una restrizione e il paziente non ce la fa a mangiare non ha neanche voglia di mangiare queste calorie perché non ce la fa proprio deve mettersi di impegno quindi direi che un minimo di collaborazione fa sì che si ottenga il successo dell'intervento. Ma dopo l'operazione può essere che la persona torni lo stesso a mangiare come prima o è un po' direi che ci sono dei paletti da rispettare se certamente dopo il primo periodo in cui si deve privilegiare una dieta liquida e semiliquida per motivi prettamente chirurgici per far sì che il bendaggio si stabilizzi in sede eccetera dopo bisogna seguire una dieta solida e questa dieta solida più o meno è quello che si mangia adesso normalmente alto che in quantità minore noi vi diamo già delle indicazioni su come mangiare quando mangiare eccetera direi che ci deve essere una colazione la mattina uno spuntino a metà mattina il pranzo qualcosa nel pomeriggio e una cena leggera direi che l'introito calorico viene suddiviso in queste cinque etappe e noi diamo dei suggerimenti su come fare e quanto prendere di queste e il bendaggio chiaramente aiuta perché fa sì che voi vi siate soddisfatti di quello che avete mangiato però se uno vuole ingannare il bendaggio lo può ingannare in qualsiasi momento basta che prenda del cibo liquido ipercalorico tipo gelato uno può prendere anche dieci chili di gelato ma certamente non riesce a calare di peso il gelato va giù tutto ma non ci cala di peso certamente quindi abbiamo ingannato abbiamo ingannato il nostro organismo per questo che ci vuole la cooperazione da parte del paziente allora professore abbiamo anche il video per i nostri telespettatori che vogliono capirne di più adesso il nostro regista Davide ci manda un primo video vediamo allora a commento il professore prego Davide diciamo questo è un video molto semplice in cui dà un'idea dell'intervento chirurgico l'intervento chirurgico viene fatto in laparoscopia quindi vengono quindi ci sono delle piccole incisioni per cui vengono inseriti degli strumenti attraverso questi trocar che avete visto all'inizio qui siamo già a livello dello stomaco e nella parte più alta dello stomaco con l'esofago e il chirurgo ha dei punti di riferimento che sono delle strutture anatomiche ben ben precise e cerca di creare anzi crea un tunnel dietro lo stomaco la parte più alta dello stomaco subito sotto l'esofago quindi l'unica diciamo apertura che viene fatta è proprio questa su dei tessuti che non hanno nessuna importanza viene creato questo tunnel retrogastrico nel quale viene inserito il bendaggio quindi vedete che non è stato tagliato e reseccato nulla quindi l'integrità anatomica dello stomaco è rispettata e conservata chiaramente c'è tutto un sistema di calibrazione avete visto la sonda calibratrice adesso in modo tale che il bendaggio deve essere posizionato nel posto corretto perché altrimenti ci possono essere dei problemi quindi questa è chiaramente una responsabilità del chirurgo mettere il bendaggio dove deve essere messo ormai la tecnica è ben codificata è da decenni ovviamente la riuscita dell'intervento tutto quello che poi è il decorso post-operatorio è 50-50 ci vuole il chirurgo ma ci vuole anche poi abbiamo detto il paziente assolutamente il paziente deve accettare di cambiare le sue abitudini alimentari perché altrimenti non come dicevo se uno continua a mangiare liquidi o cibo liquido ipercalorico e così dicendo non andrà in deficit calorico quindi non perderà peso ecco poi dottore c'è un altro video che adesso ci manderà Davide nel frattempo tutti coloro che questa sera guardano questa trasmissione si chiederanno ma a chi mi devo rivolgere devo andare dal mio medico di famiglia c'è il servizio sanitario che mi può coprire una parte di spesa ecco cosa succede perché io sono convinta che questa sera tantissime persone con qualche chilo in più fanno un pensierino perché magari ne sapevano un pochino di meno adesso stanno prendendo un po' di coraggio perché è attraverso l'informazione che prendiamo la nostra consapevolezza e abbiamo anche meno paura se la cosa la conosci la capisci non ne hai paura io sono sempre convinta di questo prego professore allora direi che certamente il primo approccio è quello con il medico di base il quale medico di base il medico di famiglia è quello che conosce bene il paziente può anche indirizzarlo presso determinati centri che si interessano o meno di questo tipo di patologia a seconda delle conoscenze oppure altrimenti certi medici di base non sono molto propensi per questo tipo di trattamento per cui il paziente può a sto punto contattare direttamente questi centri tipo il nostro ad esempio anche utilizzando il numero in sovrimpressione per esempio e ad avere le informazioni su che cosa bisogna fare in ogni caso il trattamento chirurgico è coperto dal servizio sanitario nazionale quindi è chiaro che è una chirurgia che è prevista non solo il vendaggio ma anche tutto il resto della chirurgia del sistema sanitario nazionale poiché qualcuno abbia l'assicurazione vuole farlo privatamente un altro periodo di maniche ma la stragrande maggioranza dei pazienti lo fanno nell'ambito del sistema sanitario nazionale poi dottore a seguito di questi interventi quando c'è questa perdita di peso so che molti ricorrono alla chirurgia plastica perché devono togliere questa pelle in eccesso quindi ci saranno molti pazienti che avranno anche bisogno di questo sì però sono meno del previsto secondo le nostre statistiche solo il 20-30% dei nostri pazienti hanno poi bisogno diciamo di chirurgia plastica correttiva plastica e così via sono il 20-30% in ogni caso bisogna aspettare di aver ottenuto i risultati definitivi perché altrimenti uno fa un intervento e poi rischia di farne un altro quindi bisogna aspettare almeno un anno e mezzo due anni dopo l'intervento iniziale in modo tale che la situazione sia stabilizzata e il chirurgo plastico può operare in maniera definitiva senza dover fare un intervento poi doverlo riprendere eccetera perfetto allora io vi ricordo per coloro che si fossero sintonizzati in questo momento stiamo parlando di chirurgia dell'obesità con uno dei massimi esperti in Italia il professor Franco Fravetti abbiamo anche in diretto una nostra telespettatrice che c'è proprio venuta a trovare proprio questa sera perché era curiosa voleva proprio sentire dalla viva voce del professore tutto quello che riguardava appunto la chirurgia dell'obesità perché vuole fare con noi un percorso quindi deve scegliere se dimagrire col metodo tradizionale oppure se ricorrere sin da ora a questo metodo della chirurgia dell'obesità quindi vi ricordo che potete contattarcelo 049 7800 00204 per parlare con il nostro Franco Fravetti e anche mandare sms 342 533 9744 stami bene chiocciolo caffetv24 invece per interagire tramite mail ricordo anche al nostro regista che abbiamo un altro video sempre molto significativo che il nostro professore ci andrà a commentare vediamo se questo video arriva eccolo qua forse è lo stesso forse c'è un altro video Davide che abbiamo visto prima nel modo si vedono gli accessi qui quelli che dicevo prima ecco quindi questo è un video che abbiamo visto vediamo se adesso arriva l'altro nel frattempo professore io le leggo delle domande che mi erano arrivate allora Katia sto finendo gli esami preoperatori mille dubbi e mille incertezze la paura di crearmi un'invalidità cronica anziché di risolvere problemi di salute causati dall'obesità ho voglia di riprendermi la mia vita e ho paura di dovinarmela per sempre ho già fallito con il vendaggio e ho sofferto morto questa è la mia ultima spiaggia quindi da quello che ho capito sta rifacendo e ha tantissima paura però se hai fallito col vendaggio un po' di colpa ce l'hai anche tu perché abbiamo sentito ecco cosa possiamo rispondere a questa amica molto in fibrillazione molto tra virgolette sul disperato allora quello che possiamo dire è che effettivamente io non conosco il caso specifico perché loro a volte non mi mettono nemmeno il nome nel senso non sappiamo che cosa è successo con questo vendaggio certo che se è fallito a questo punto bisogna prendere in considerazione un altro approccio chirurgico come accennavo prima direi che sono gli interventi di secondo livello che sono più invasivi del vendaggio potenzialmente hanno anche complicazioni diverse maggiore però se l'intervento viene eseguito in uno dei centri conosciuti con esperienza io direi alla paziente di andare con fiducia perché la tecnica è molto ben codificata e sono certo che non gli propongono un intervento di cui non potrebbe beneficiarsi posso fare una domanda? Volevo chiedere ci sono limiti di età per fare questi tipi di interventi? Allora di fatto ci sono delle linee guida ci sono delle linee guida non delle cose assolute uno dice che dovrebbe essere dai 18 anni diciamo sui 60 65 anni non oltre ma noi abbiamo operato pazienti anche molto più anziani come pure abbiamo operato degli adolescenti perché adesso questo tipo di chirurgia ha avuto risultati così positivi che si sta estendendo le indicazioni agli adolescenti e anche persone con un'età avanzata perché per quanto riguarda le persone dell'età avanzata quello che cambia radicalmente è la qualità della vita mentre per i pazienti diciamo dai 18 ai 55 anni non solo si cambia la qualità della vita ma si allunga la vita mentre per quelli diciamo oltre una certa età diciamo che i danni dal sovrappeso sono stati fatti perché non sono più reversibili mentre per i giovani a maggior ragione migliora e la qualità della vita e nello stesso tempo l'aspettanza di vita ma proprio di anni quindi questa è la cosa importante il messaggio che questo tipo di chirurgia da un punto di vista statistico ha un impatto non solo sulla qualità della vita ma ha un impatto sull'aspettanza di vita ma di anni quindi è una cosa ma per le persone un po' più anziani ci sono più rischi per le persone più giovani eh sì generalmente sì ci sono più rischi e allora per questo sono i rischi non tanto relativi all'intervento in se stesso ma relativi al fatto che questi pazienti magari hanno l'ipertensione magari hanno problemi cardiaci e cose di questo genere che sono i rischi che si sono portati dietro per dire e che si sono accumulati negli anni per questo che allora bisogna scegliere gli interventi meno invasivi e che danno meno problemi tipo il bendaggio ribadisco perché cambia la qualità della vita in queste persone vediamo se poi Davide anche una slide su quello che sono i problemi causati dall'obesità che ti avevo mandato ieri c'è una slide che ti avevo mandato Davide così facciamo capire a casa cosa vi porta l'obesità spero che tu la possa mandare in onda nel frattempo io leggo anche un messaggio allora buonasera sono sempre stata una persona attiva con tre figli fatti in cinque anni e un lavoro ho sempre avuto esami del sangue perfetti nessuna patologia conclamata legata alla mia obesità di terzo grado ma dopo l'operazione non c'è paragone tutta l'energia che prima spendevo per trascinarmi dietro quei chili oggi la sfrutto per passeggiare correre fare shopping con leggerezza e godermi mio marito e i miei figli avrei dovuto farlo dieci anni prima bellissima questo messaggio telefonata buonasera chi abbiamo in linea pronto? pronto tu con me? sì buonasera con chi parlo signora? buonasera io mi chiamo Manuela da dove chiama Manuela? da Verona a Arcole ad Arcole perfetto buonasera vuole parlare con il nostro professore? sì anche io oppure con lei volevo dire la mia esperienza prego prego ecco io sono stata operata io ho fatto il bypass nel 2010 bene e pesava su 110 kg e ho fatto questo bypass a Verona a circa 30 e dopo devo dire dopo una pancreatite diciamo che diciamo ne ho avuto nel 2003 e a causa anche dell'obesità probabilmente ho avuto dei grossi problemi e l'anno successivo nel 2004 mi hanno tolto le cittifelle eccetera comunque il fatto è che mi è rimasta la diabete ai 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 ecco come souvenir e l'ho gestita abbastanza bene poi però i miei valori erano sempre alte i zuccheri era difficile a dominarli diciamo e finché non mi è stato proposto questo intervento del bypass gastrico pronto? si si stiamo ascoltando ah si ecco l'ho fatto e sono contentissima perché io sono calata praticamente fino a 70 kg da 109 che ero e devo dire in 5 anni adesso ho ripreso 10 kg di cui diciamo è un po' colpa mia perché mi lasciava andare perché riesco a mangiare qualcosina di più adesso allora ho ripreso qualche chilo però volevo confermare questa cosa che la qualità della vita in ogni senso è migliorato la diabete è migliorato riesco a tenere in vaga cioè veramente sono contentissima consiglierei a tutti obesi questo trattamento e soprattutto chi ha anche la diabete perché in effetti i miei valori sono diminuiti tantissimo ecco volevo dirvi questo grazie per la testimonianza perché effettivamente è in linea con quello che abbiamo appena detto ed effettivamente il bypass gastrico che lei ha avuto ha permesso di correggere quel diabete che lei ha avuto dalla pancreatite perché il diabete lei è venuto fuori dalla pancreatite di conseguenza il poco pancreas dal punto di vista della secrezione insulinica che è rimasto e che funzionava è stato maggiormente sviluppato e utilizzato con il bypass gastrico quindi questo ha certamente facilitato la preservazione del pancreas che rimaneva a noi in modo complimenti per la testimonianza grazie grazie ti ringrazio vi ringrazio vi ringrazio anche per la trasmissione molto interessante noi la facciamo proprio per voi perché cerchiamo insomma l'informazione deve entrare proprio nelle vostre case soprattutto quando abbiamo delle eccellenze come il nostro professor Favretti un caro saluto a te continua ad ascoltarci grazie mille perfetto un'altra telefonata saluti vediamo chi c'è in linea con noi buonasera pronto vediamo se c'è qualche minuto di attesa se la telefonata è chieduta io attendo il nostro Davide saluta ti manda la diapositiva mi manda la diapositiva professore mi sono permessa di prendere questa diapositiva perché le complicanze mediche dell'obesità guardate amici telespettatori quante malattie cosa vi viene quando siete obesi cioè avete visto dalle malattie polmonari alle malattie epatiche le colitiasi cosa sono le colitiasi i calcoli al fegato ah mamma mia aiuto che infatti c'è tu le hai vero? le ho trovato per caso le hai trovate per caso poi insomma la osteoattriti poi la gotta la cute l'ipertensione le malattie coronariche il diabete l'ipatensione il cancro perché sappiamo che chi è obeso è predisposto vero dottore ha qualcosa in più verso queste malattie oncologiche vero dottore assolutamente statisticamente i pazienti sovrappeso hanno una maggiore incidenza di neoplasie dalla mammella al colon al pancreas eccetera quindi questo è un dato statistico però soprattutto questa diapositiva dimostra proprio che l'obesità è proprio il crocicchio da cui si dipartono tutte queste queste patologie queste malattie e la cura dell'obesità è dimostrato risolve la maggior parte di queste complicanze ecco poi tra l'altro i ragazzi adesso abbiamo tantissimi ragazzi obesi quindi veramente ecco lì anche il bendaggio si può fare anche sui ragazzini vero dottore esatto allora proprio qui entriamo in un altro argomento molto importante nel sovrappeso negli adolescenti e allora ci sono tante metodiche chiaramente l'adolescente è un paziente molto delicato molto particolare però noi abbiamo già fatto da tanti anni operato questo tipo di pazienti con ottimi risultati perché i pazienti giovani sono quelli che si giovano di più di questo tipo di chirurgia e danno maggiori hanno i risultati migliori quindi nei prossimi anni sarà certamente diffusa ancora di più tra gli adolescenti perfetto allora dottore un'altra telefonata buonasera chi è con noi? pronto? pronto e buonasera con chi parlo? io sono un ragazzo straniero sì come ti chiami? io mi chiamo Venco e chiamo da Lodi Vecchio da dove scusa? da Lodi Vecchio Lodi Vecchio provincia di Milano? provincia di Lodi ah provincia di Lodi sì perché Lodi fa provincia a sé è vero hai ragione perfetto siamo in Lombardia giusto? ecco io ce l'ho bene vai 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 pure dai io ce l'ho un problema un bambino ce l'ho 10 anni e c'è 70 kg che pesa io volevo chiedere a questo professore che lo sento che parla e vado io a tutti gli ospedali sono girato a tutti gli ospedali a Milano Lodi Pavia che tutti mi dicono che che tutti gli esami sono a posto che però per te c'è qualcosa che non ti quadra io non posso andare avanti che per ascoltare i dottori che il mio bambino dalla sua nascita che è mai mangiato lui non lo sa cosa è mangiare cosa è carne verdura di tutti i tipi lui solo mangia promaggini palmarvi di suo pane e tutti mi dicono devi farlo a dieta come faccio a farlo a dieta che il bambino non mangia e sempre quello che mangia appena che mangia anche se beva acqua lui si gonfia i professori mi fa spiegare qua in Italia dove c'è un ospedale con i dottori professionisti come sono per sblocarlo per mangiare che comincia a mangiare perché lui nella sua vita non lo sa cosa è mangiare quando io mangio a tavolo e lui si dutto io mi dispiace a me che lui guarda che io mangio c'è che mi può aiutare questo allora abbiamo capito allora il professore ti risponde il problema è serio certamente non lo minimizzo affatto e da quanto capisco lei ha già contattato vari centri io direi che in questa fase la chirurgia non è fattibile bisogna aspettare il bambino mi pare di aver capito che ha 10 anni o così bisogna assolutamente aspettare sui 15 16 anni adesso è troppo presto per cui purtroppo l'unico approccio che si può fare in questo momento è dal punto di vista dietetico e comportamentale cercare di fargli cambiare le abitudini alimentari e di vita inserendo lo sport inserendo l'attività fisica eccetera mi rendo conto che è difficilissimo e che è molto più semplice dirlo che non farlo però diciamo che per quanto riguarda la chirurgia adesso è troppo precoce io le consiglierei di sentire un centro pediatrico nella zona di Milano e sentire loro che hanno certamente degli specialisti che seguono l'obesità infantile che cosa le suggeriscono proprio dal punto di vista diciamo per quanto riguarda la correzione alimentare e comportamentale del bambino al momento attuale non si può fare altro cercare di modificare la dieta e il comportamento solo dopo sui 15 anni 14-15 anni si può pensare a un intervento chirurgico che può essere il vendaggio ma anche altre cose altre cose anche altre cose capito allora ricorda i nostri telespettatori siamo in rigorosa diretta dagli schermi di Caffè TV 24 se volete interagire con noi come avete sentito numerose persone lo fanno attraverso lo 049 7800 204 oppure tramite sms 342 533 9744 se poi terminata la trasmissione volete le informazioni sul centro del professore ovviamente chiamateci perché siamo i primi a darvi l'informativa perché insomma riteniamo che l'obesità va curata e tutto quello che può essere ormai la scienza le strumentazioni ci permettono di farlo vanno veramente utilizzate perché insomma la scienza c'è le strumentazioni ci sono e i professori anche i chirurghi insomma abbiamo le nostre belle eccellenze sento ancora il telefono che squilla allora vediamo se adesso la regia mi passa la telefonata pronto vediamo se mi arriva pronto buonasera buonasera volevo parlare con quel professore certo il suo nome Paolo Kirchner da dove da Trento da Trento buonasera al Trentino Alto Adige prego è per lei il professore volevo chiedere cosa cosa comporta l'operazione in caso di obesità cosa comporta il rischio dici sì esatto qual è la la percentuale di rischio sì ecco quanto pesi se ti posso chiedere è sopra il quintale e non ci sono problemi guarda ce ne sono tantissimi se ti può consolare vai prego ok io direi che limitando la discussione al bendaggio perché penso che questo sarebbe quello che lei dovrebbe fare onestamente con anche detto il peso però non c'è bisogno di fare altre cose oltre al bendaggio una persona come lei il rischio è minimo nel senso che il tasso di complicanze allora la mortalità di questo tipo di intervento è dello 0,01% quindi direi che è proprio e non è neanche relativa al bendaggio è dovuta a comorbidità che ci possono essere presenti tipo una persona che aveva problemi cardiaci o altro per quanto riguarda le complicanze quelle proprio del nostro centro che le sono pubblicate praticamente abbiamo globalmente nel corso degli anni complicanze non più del 3-4% dei casi quindi sono delle complicanze minime perché sono facilmente trattabili dal punto di vista qualitativo ma anche numericamente cifre del genere sono quanto mai ottime fanno vedere come l'intervento sia in un certo senso benigno per darle un'idea uno fa un'appendicectomia a complicanze sugli ordini del 15% e una mortalità superiore a quello che l'ho detto io tanto per darle un'idea perfetto è stato molto chiaro ed esaustivo allora dottore un'altra domanda allora salve dottore da un mese 13 giorni sono stato operato di bendaggio gastrico ma ad oggi non riesco ad ingerire nulla di solido senza vomitare mi piacerebbe sapere se è capitato ad altri pazienti da quando sono stato operato tiro avanti con liquidi e latte oi boh boh allora secondo me qui non è normale questa situazione ecco qui c'è non è assolutamente normale perfetto perché lei è stata operata un mese e mezzo fa e continua ad andare avanti con i liquidi e altri liquidi non riesce a prendere allora bisogna che lei vada nel centro che dove è stata operata faccia presente questi suoi disturbi e la prima cosa da fare sono da fare i raggi per sapere come è il bendaggio se è ben posizionato oppure se ci sono dei problemi quindi bisogna fare un tubo digerente delle prime vie per vedere qual è la causa per cui questa paziente vomita anche i liquidi qui c'è una situazione patologica quindi lei deve andare a farsi correggere o controllare ed eventualmente correggere la situazione questo non è normale ah ecco quindi insomma mi raccomando perché sono cose importanti queste qui doveva anche segnalarlo subito al suo subito deve andare nel centro dove è stata operata dire ho questi problemi e loro devono indagare perché la paziente ha questi disturbi e il primo indaggio da fare è farle bere fare un tubo digerente prima e via con il bario e questo si capisce com'è il bendaggio se è ben posizionato o se ci sono altri problemi benissimo poi abbiamo un'altra domanda allora buonasera dottore sono passati una decina di giorni dal mio intervento le posso dire che l'unico dolore fastidio rimasto è quello proveniente dalla sede dove si trova il port poi mentre notato che quando rido mi viene il singhiozzo è molto fastidioso allora direi di tranquillizzare la signora il dolore nella sede del port può essere avvertito per qualche giorno ma vedrà che pian pianino va scemando perché la maggior parte dei pazienti dopo 3-4 giorni non ha più disturbi a livello del port perché il port è praticamente il serbatoio che viene messo sotto la pelle quindi diciamo che il dolore che c'è è tipo quello di una contusione perché il port viene messo sotto pressione a livello della pelle quindi stia tranquilla pian pianino questo dolore è scema per quanto riguarda il singhiozzo anche questo andrà via lei deve solo abituarsi alla nuova situazione è una spina irritativa che poi viene diciamo pian piano dimenticata ecco poi una signora mi chiedeva se viene fatto con l'anestesia sì è un intervento chirurgico a tutti gli effetti e viene fatto in anestesia generale l'unica cosa è che ad esempio nel nostro centro i pazienti vengono dentro la mattina adesso sto a dire prego prego un attimo solo che è in linea prego dottore finisca vengono ricoverati la mattina vengono operati e il giorno dopo vanno a casa ma l'anestesia è un'anestesia generale però la laparoscopia e tutta l'organizzazione fa sì che l'intervento sia compattato e anche il paziente va a casa subito allora sentiamo chi è in linea con noi buonasera con chi parliamo buonasera chiamo da Roma voglio fare una domanda al dottore certo 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 prima però vorremmo sapere come ti chiami io Enza ciao Enza ben trovata con noi da Roma allora prego il professore per te vai allora volevo sapere io ho girato tanti tanti ho fatto tante diede e adesso da quando mi sono ingrassata peso 90 kg mi è venuta l'ipertensione il diabete ho il cuore che non va bene tanto ho il fegato rovinato sono obesa le gambe non mi reggono più ho l'anca che è tutta consumata non mi possono operare perché hanno paura di rischio di morte gli ortopedici non so più da dove sbattere la testa che cosa posso fare a scendere non scendo perché prima prendevo i pasticchi da vitamina per dimagrire e poi ha triplicato mi ha triplicato questo da quando l'ho smesso sono due anni ma non me le danno più nessuno perché ho dei problemi e non so più dove sbattere la testa l'anca non ce l'ho più proprio cammino tutta da una parte e ho le ossa astrosi ho tutta poliartrite quanti anni hai amica quanti anni hai 57 5 e 7 5 e 7 quindi insomma sei vecchia quindi mi raccomando dobbiamo tirarci su qui allora approfitto per dire che le anfetamine non le deve proprio prendere tutte io l'ho presa una vita perché mi calavo subito 8 kg al mese però con queste anfetamine si rischia sono proprio bandite dal ministero della sanità e sono vietate i medici non possono prescriverle pena problemi medico-legali anche a radiazione dall'albo e molti pazienti sono morti proprio per questo tipo di terapia incongrua quindi questo bisogna proprio dirlo che è ora di finirla con questo tipo di terapie mediche incongrue che si basano su ormoni tiroidei e anfetamine eccetera questo qua veramente uno mette a pericolo la propria esistenza detto questo secondo me lei deve ha una serie di problemi deve cominciare ad affrontarli in maniera razionale è il primo proprio quello di cominciare a perdere il peso affidandosi ad un centro che la prenda in considerazione e le proponga un determinato approccio chirurgico non riesco a sentirla signora mi dispiace non so cosa ho provato un centro che mi fa dimagrire e fare abilitazione ma la regione non mi autorizza perché dice che non ci sono i soldi allora non so l'ha mandato in un centro che fa cosa signora? fa dimagrire e mi fanno fare l'abilitazione fanno due cose insieme ma la regione non mi autorizza l'asle mi pare un po' strano perché ci sono bisogna vedere bisogna vedere che tipo di centro è questo perché potrebbe essere un centro che non è riconosciuto e allora la sua regione l'asle non glielo riconosce deve andare mentre ci sono i centri di riabilitazione nutrizionale e noi con cui noi lavoriamo e che ci sono eccetera dove sono autorizzati e sono coperti dal servizio sanitario nazionale però bisogna avere determinate caratteristiche eccetera anche questi centri sono pochissimi in Italia ma l'asle della B non mi autorizza perché dice che non ci sono i soldi allora signora non posso entrare in discussione su questo però sappia che ci sono i centri coperti dal servizio sanitario nazionale dove uno può andare Enza ci chiami dopo terminata la trasmissione che ti indirezziamo noi ti diamo noi le dritte perché tu possa scegliere un centro convenzionato con servizio ok allora noi concludiamo Enza la telefonata perché ne abbiamo altre dietro di te che si sono accavallate intanto ti salutiamo poi ci sentiamo dopo che ti aiuteremo a trovare il centro per te nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo di averci contattato grazie a te Enza mi raccomando ascolta e ci continua a seguirci allora mancano quattro minuti alla fine della trasmissione io le leggo abbiamo tantissime cose insomma vabbè la mia ragazza ha problemi di obesità che si ostina a non voler affrontare in quale modo posso introdurre l'argomento senza ferirla grazie si ostina e lì deve partire da lei vero dottore non possiamo se la paziente non ha percezione che necessita di cambiare la sua vita la sua struttura fisica eccetera credo che sia poco quello che si possa fare il primo muove in sparte dalla parte del paziente certo allora noi stiamo concludendo insomma questa serata io ho avuto il piacere di avere qui una mia telespettatrice che senza tanti problemi perché a volte io poi vi bacchetto però dico non bisogna aver paura di mostrare l'obesità insomma è una malattia come abbiamo detto più volte è vero professore l'obesità va curata quindi non ci devono essere tabù non bisogna nascondersi mai dietro bisogna sempre essere sereni nella maniera in cui l'ha fatto la nostra telespettatrice che si è affidata insomma a noi ci ha messo la faccia qui serena tranquilla ed è insieme a delle persone che la possono aiutare in questo cammino che poi lei sceglierà dimagrire con il metodo tradizionale o dimagrire attraverso la chirurgia dell'obesità questo sarà tua la scelta però questa sera sei venuta a conoscenza di tante cose questo ti aiuterà a fare delle scelte a migliorare spero a migliorare e noi professore cosa diciamo intanto io devo dire che lei mi va insomma guardate io vi dico un po' di cose perché questo signore ha fatto più di 5.000 procedure di chirurgia dell'obesità e va in Italia Spagna Stati Uniti Messico Venezuela Francia Svizzera e Belgio insomma è una persona che in America quando lo vedono insomma fanno gli applausi perché veramente lui si è preso a cuore i pazienti italiani a come si dice questo nostro modo di operare è andato anche negli altri paesi vero abbiamo trainato molti chirurghi e fate anche formazione perché lei mi fa anche formazione abbiamo formato centinaia di chirurghi nel mondo nel mondo quindi pensate che bello ecco queste sono le eccellenze che noi abbiamo qui nella nostra Italia e speriamo sempre di averne tante quindi cosa vogliamo dire per terminare professore a tutti coloro che questa sera hanno ascoltato questa trasmissione purtroppo il messaggio è molto semplice se c'è un sovrappeso oltre i 30 a 35 kg rispetto al peso ideale non c'è terapia medica dietologica che tenga per quanto riguarda risultati duraturi a distanza bisogna pensare di avere un approccio chirurgico e a questo punto rivolgersi a centri che abbiano esperienze in proposito in modo tale che il percorso chirurgico sia esposto al minor rischio possibile perfetto allora io adesso devo terminare la trasmissione vi ricordo che questa trasmissione sarà replicata poi la troverete anche sui canali youtube se avete perso qualcosa vi ricordo anche per coloro che volessero necessitassero di informazioni per avere sui centri eccetera basta telefonare ai numeri in sovraimpressione vi daremo tutte le coordinate io vi ricordo che domani sera ci sarà sempre in prima serata sugli schemi di caffè tv Alberto Salmazo con la trasmissione Il Tarlo dedicata alla politica all'attualità poi vi ricordo l'appuntamento anche con Claudio Casorati con il salotto di Casa Caffè con ospiti sempre importanti poi vi ricordo anche che ci sono i Tg nazionali e anche ovviamente del Friuli Venezia Giulia che vi aspettano sempre nelle ore serali appunto per l'attualità per approfondire anche la cronaca e anche il programma di triatro molto seguito che so che molti dei spettatori sportivi seguono con grande passione e naturalmente saluto anche gli amici interisti che mi hanno detto ma non c'è più InterTV si c'è ha cambiato gli orari basta sintonizzarsi sul nostro sito e vedete che ci sono cambiati un po' di orari ma gli interisti possono stare tranquilli che c'è ancora InterTV con noi quindi si parla dell'Inter a me non resta che ringraziarvi dell'ascolto rimandarvi alla prossima puntata naturalmente in diretta mercoledì la prossima settimana un cordiale saluto da Nicoletta Ritte a tutti voi e mi raccomando non cambiate canale alla prossima ciao ciao se tanto e bene vuoi mangiare alla barchessa devi andare eh sì all'Osteria Pizzeria alla barchessa potrai gustare magnifici menu con specialità di carni alla griglia la cucina casalinga il ristorante e la pizzeria racchiusi in una calda e piacevole atmosfera luogo ideale per feste ricevimenti e cene aziendali a Due Carrare in provincia di Padova Busteria Pizzeria alla barchessa in via Campolongo 105 con ampio parcheggio aperta anche a Natale e a Capodanno prenotando allo 049 91 25 901 da martedì alla domenica vi aspettiamo a pranzo e a cena